a voi tutti ben ritrovati a questa nuova puntata di dolomiti turismo già siamo nel mese di novembre allora è in vista la stagione dello sci si parla di aperture già dal 30 novembre se non magari qualche pista prima e allora per parlare di questo saluto e ringrazio Marco Grigoletto presidente Anef Veneto buongiorno Grigoletto grazie buongiorno salve a tutti i telespettatori allora ribadiamo Anef associazione nazionale esercenti funiviari ovvero che raggruppa i titolari degli impianti di risalimento allora Grigoletto credo che in questo momento il tema più importante attendendo chiaramente le possibili precipitazioni dal cielo sia la produzione di neve artificiale per assicurare un inizio di stagione e per arrivare alle vacanze di Natale allora com'è la situazione? Quali investimenti fanno gli impiantisti veneti e con particolare riferimento alla provincia di Belluno? sì partiamo col dire che l'innevamento è ormai un'esigenza obbligatoria per tutte le nostre aziende associate in questi ultimi anni sono stati fatti grandi investimenti nell'ordine solo quest'anno sono previsti investimenti da quest'anno ai prossimi 2-3 anni nell'ordine dei 10-12 milioni di euro quindi sono grandi investimenti che consistono soprattutto nel reperimento di acqua attraverso bacini artificiali oppure il cambio di tubature che ormai sono obsolete abbiamo tubature che sono magari degli anni 90 e quindi in questo momento è giusto fare un ammodernamento di tutte queste strutture per cercare di adeguarci a delle tecnologie che sono anche di risparmio energetico sia di risparmio di acqua è chiaro che in questo contesto le temperature la fanno da padrone nel senso che noi potremmo anche nevare a temperature sopra lo zero però la qualità della neve sarebbe troppo bassa per poterla utilizzare in maniera concreta e per garantire la sicurezza degli sciatori certo e anche la tenuta Grigoletto ovvero produrre neve non di buona qualità non garantisce il fondo? sì non garantisce il fondo diciamo che si consuma molta più acqua producendo neve di bassa qualità con temperature elevate certo è che con le infrastrutture che stiamo modernando in questo periodo abbiamo delle situazioni in cui gli innevatori si accendono non tutti insieme ma a seconda delle temperature raggiunte quindi abbiamo dei sensori per ogni innevatore che rilevano la temperatura dell'aria la temperatura dell'acqua che arriva all'innevatore per cercare di produrre la neve migliore possibile è chiaro che in questo periodo in cui noi verso fine novembre cercheremo di aprire qualche impianto abbiamo bisogno di finestre di freddo che ci consentano di innevare uno degli obiettivi che ci siamo posti appunto con queste infrastrutture nuove è l'innevamento nel minor tempo possibile delle piste perché le finestre di freddo abbiamo notato che in questi ultimi anni si stanno accorciando e quindi noi dobbiamo adeguarci a questo tema e con minori finestre di freddo con le infrastrutture che abbiamo penso che riusciremo comunque a fornire un servizio al cliente che sia ottimo e che garantisca anche la sua sicurezza Ecco Grigoletto per darci un'idea una pista di media lunghezza quanto tempo serve per innevarla? Quanta finestra di freddo per l'innevamento programmato? Beh, se noi teniamo conto che dobbiamo avere almeno un manto nevoso intorno ai 40 cm per poter permettere lo sci in sicurezza almeno ci servono 2-3 giorni per cercare di innevare una pista è chiaro che se dovessimo innevare un comprensorio questo dipende molto sia dall'acqua che abbiamo sia dalle temperature e poi i tempi si allungherebbero intorno a una settimana La tecnologia dei cannoni, investimenti anche ci sono cannoni più performanti rispetto al passato? Ma diciamo che sono molto più performanti rispetto al passato però noi abbiamo anche adesso dagli ultimi anni grazie alle tecnologie 4.0 anche i battipista che hanno un sistema che si chiama Snowsat che permette all'operatore di poter vedere in diretta la profondità della neve e la pista disegnata diciamo in uno schema informatico e questo ci permette di poter abbattere le piste in luoghi dove magari prima non eravamo coscienti che c'era minore strato di neve o maggiore strato di neve da spostare quindi questo ci permette un'ottimizzazione della battitura delle piste e un'ottimizzazione anche della neve prodotta per l'inevamento Un altro aspetto che magari non è visivamente percepibile ma che so che investite molto è quello della sicurezza per gli sciatori ecco le piste, la sicurezza delle piste investite anche in questo come associazione? Sì, noi investiamo moltissimo in questo prima di tutto perché è un obbligo di legge investiamo moltissimo sia nella revisione degli impianti sia nella costruzione di impianti nuovi con la normativa di sicurezza che è abbastanza direi giustamente stringente per la protezione degli utenti e investiamo molto sulla sicurezza delle piste sia con degli operatori che stiamo in questo periodo formando come direttore di piste e sia con tutte quelle attrezzature che servono poi per delimitare le piste e per cercare di dare maggiore tutela agli utenti Uno sguardo finale a quello che non si vede ma che c'è magari, cioè si vede magari ma non ci percepisce il valore del lavoro umano gli addetti agli impianti di risalita servono chiaramente anche loro e molti per far funzionare gli impianti come siamo nella ricerca di personale? perché so che c'erano stati o ci sono, punto interrogativo, qualche difficoltà nel reperire mano d'opera in questo senso? In questo senso noi siamo ancora sotto organico nel senso che l'organico che noi costruiamo ultimamente negli ultimi inverni è un organico che non è locale in parte non è locale diciamo che un 15-20% di addetti ai lavori provengono anche da altre regioni e quindi siamo comunque, tra virgolette, costretti a fornire loro l'alloggio, il vito e l'alloggio per poter riuscire noi ad aprire gli impianti Un altro tema è anche quello della formazione noi stiamo lavorando moltissimo adesso sulla formazione abbiamo appena vinto con la scuola edile di sedi con bando che riguarda anche la formazione degli addetti agli impianti e quando è aprile ci saranno dei corsi che verranno tenuti da esperti del settore che riguardano sia la sicurezza delle piste e degli impianti e sia, diciamo, per una parte tecnica la formazione vera e propria dei nostri operatori perché a noi servono molto macchinisti che devono avere una formazione un po' particolare e soprattutto capi servizio che sono, se vogliamo fare un paragone i capi reparto, diciamo di un'industria o di una fabbrica ma devono avere una formazione specifica e devono seguire dei corsi e fare degli esami che sono piuttosto specifici anche perché ecco il lavoratore di impianti di risalita spesso e volentieri non è soltanto il lavoratore stagionale ma ci diceva l'altra volta può essere anche un lavoro annuale e quindi anche con possibilità poi anche di fare carriera o comunque di avere un reddito costante quello sicuramente perché per noi le stagioni si stanno comunque noi cerchiamo di allungare l'estate e l'inverno il più possibile proprio perché una delle politiche che intendiamo adottare nei prossimi anni è quella di avere il più possibile dei dipendenti che siano fissi nelle nostre aziende sia per poterli formare adeguatamente sia per fornire loro un lavoro che gli dia soddisfazione e certamente un lavoro per dire di macchinista è un lavoro che può dare molta soddisfazione un'ultimissima domanda riguardo gli investimenti contributi pubblici ci parlava di bandi per la formazione contributi per quanto riguarda l'innevamento programmato e la sicurezza ce ne sono? li sfruttate? li sfruttiamo molto ce ne sono stati due uno diciamo l'anno scorso che è stato regionale che riguardava proprio l'innevamento e l'acquisto di battipista che ricordo per noi un battipista costa moltissimo costa circa 600 mila euro un battipista ben strutturato e ce ne sono sia per le revisioni degli impianti sia appunto per gli innevamenti e l'ultimo che è uscito recentemente che si è chiuso da poco è stato il bando del Ministero del Turismo gestito dalla Ministra Santanchè che ha previsto 230 milioni per tutta Italia e che permetteva diciamo non la costruzione di nuovi impianti ma la revisione di tra virgolette vecchi impianti perché le revisioni da noi sono ogni 5 anni ogni 10 anni ogni 20 anni quindi il controllo sugli impianti è molto preciso e sull'innevamento e quindi noi adesso abbiamo presentato diverse domande nell'area belunese nell'area di Asiago e vedremo adesso se riusciremo a accedere a questi fondi grazie mille abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione grazie per le utili notizie che ci ha dato in vista della stagione invernale allora auguriamo buon lavoro a lei a tutto l'Alnev grazie a lei e grazie ai telespettatori e grazie a voi tutti a Simone Torlotta alla Regia e all'appuntamento rinnovato per la settimana prossima a Simone Torlotta